Da domani il comune di Misterbianco potrà contare sull'apporto di nuovi dipendenti, vincitori dei tre concorsi a tempo indeterminato, svolti nei mesi scorsi a entrare in servizio nella giornata del 5 luglio, in 9 a settembre invece vi sarà un altro nuovo ingresso per un totale di 10 nuove assunzioni. I neodipendenti comunali, nello specifico 5 funzionari tecnici, 2 contabili e 3 amministrativi, hanno sottoscritto questa mattina in sala giunta alla presenza del Sindaco Marco Corsaro e del Presidente del Consiglio Comunale Lorenzo Ceglie il contratto di assunzione e ricevuto dal primo cittadino il beige di ingresso. I 10 neodipendenti non saranno gli unici assunti, non appena il bilancio di previsione verrà approvato. L'amministrazione comunale si occuperà infatti di far scorrere le tre graduatorie così da immettere in organico altri funzionari. Entro l'anno infine dovrebbero aggiungersi i vincitori, 14 in tutto, dei due concorsi attualmente in fase di svolgimento che prevedono l'assunzione di personale amministrativo e di polizia locale.